Coach Alessandro Lotesoriere, responsabile tecnico territoriale per la Puglia maschile, riparte in una nuova stagione di preparazione, con quali novità se ci sono e con quale spirito? Ripartiamo con il 98-99, con questo torneo Vito Lepore a Potenza, che però è una conclusione dell'attività Centro Tecnico Federale della passata stagione. La vera attività della nuova stagione partirà a fine mese con i 2001, che parteciperanno al prossimo Trofio delle Regioni e poi via via ad ottobre ripartiremo anche con i centri tecnici federali. Le novità saranno legate all'anticipo dell'attività del Centro Tecnico e al migliorarla e diffonderla sempre di più dopo lo scorso anno che è stato l'anno zero, che è stato per noi importante per capire quali potevano essere anche le richieste e le esigenze delle società pugliesi.